Musica Benvenuti su Extra, il programma di approfondimento culturale ed attualità di Caffè TV24. Anche oggi iniziamo con una breve rassegna stampa di quelli che sono gli eventi culturali più interessanti nel nostro territorio sia a livello regionale che nazionale e poi parleremo di un fatto d'attualità che ha scosso le coscienze questa settimana il caso di Stefano Cucchi, ma lo decliniamo in compagnia di Diego Oliveri che è un imprenditore che è stato vittima di un errore giudiziario parliamo dell'uomo da 600 milioni di dollari, un imprenditore del Vicentino che è stato preso di punto in bianco alle tre e mezza di notte del 22 ottobre 2007 portato davanti a degli inquirenti, accusato di insider trading, poi vedremo bene e che quindi ha subito la detenzione carceraria, la situazione di inquisito diciamo in prima persona ma prima di tutto parliamo della rassegna stampa e poi ci addentriamo su questo che è un tema molto caldo vero Diego? Che ne dici? Sì, mi scorta ancora Ecco, e quindi poi ci addentriamo e cerchiamo di capire dal vivo, vis-à-vis, cosa significa interfacciarsi con la giustizia oggi in Italia e soprattutto dopo il caso di Stefano Cucchi Iniziamo però con la rassegna Dunque, cultura e società, dal Salone dei Vescovi al Tinello dei Dottori alla scoperta del Museo Diocesano Per il ciclo Tesori di Padova in programma visite guidate con il direttore Andrea Nante e il conservatore Cavalli Da domenica a venerdì 4.20, il Salone dei Vescovi e l'ingresso del Museo Diocesano saranno aperte Le visite guidate sono in programma da venerdì alle 29 e alle 22 e domenica dalle 10 alle 11 Questo è quello che viene proposto sempre a Padova Settimana del jazz, il festival a Padova e il rock alle note di Steph Bans Giovedì con il Michele Polga Organic Trio e i sincopatici duo Al Nadir gli Ukita che sono dei gruppi particolarmente conosciuti da quelli che sono gli appassionati di questa nicchia del settore del jazz Quindi la musica a Padova propone questo questa settimana Sette giorni al BO, sociologia, religione e vaccini Se ne discute all'università tra i temi di attualità, i cambiamenti climatici e la trasformazione del movimento LGBT Sappiamo che il movimento LGBT è il movimento sostanzialmente che si lega alle questioni degli omosessuali Della transfobia e tutto quello che ruota attorno Direttamente dal Politecnico di Milano Il docente Stefano Caserini sarà presente al BO per parlare di questo tema particolarmente delicato al giorno d'oggi Per quanto concerne invece i grandi concerti Patti Smith a Padova, reading musicale e visita agli scrovegni Lo spettacolo alliviano con il bassista Tony Chanà L'amore per la nostra regione e la venerazione per Luciani Cinema italiano in ripresa dopo il disastroso 2017 Beidati di Anica che ci danno praticamente un effetto di salita, una ripresa Quest'anno c'è una ripresa, è stato rilevato Non è che le cose siano trionfali in generale Però certamente c'è una ripresa Una proiezione all'ombra del Colosseo Della versione restaurata da Cineteca di Bologna e Titanus di Roma Di Federico Fellini ha richiamato a sé tantissime persone E questo è un esperimento da ripetere Quindi il cinema anche d'epoca, il cinema che ha fatto la storia dell'Italia Sta riscuotendo successi soprattutto tra i giovani E questo è un modello a cui fa riferimento anche nel nostro territorio padovano In ultimo andiamo ad analizzare due eventi culturali di spessore nazionale Parliamo di un appuntamento, una mostra che si terrà a Roma Che celeba il grande poeta, cioè Ovidio Che pagò con l'esilio la visione della vita espressa nelle metamorfosi Ovidio, il valore dell'eros L'amore come simbolo del destino instabile Così Augusto punì il suo essere diverso Sotto la sua penna l'amore si raffinò da emozione a progetto Gli istinti, perfino la fame di sesso Divennero esercizio dell'intelligenza E per questa ragione, per il fatto di aver nelle metamorfosi parlato di amore Declinato in tutte le sue forme poliedriche Anche talvolta amore tormentato, amore perverso Amore diciamo trasgressivo Ovidio è stato mandato in esilio Amava anche le donne e fu il primo a parlare di orgasmo simultaneo Nei versi dell'Ars Amatoria La Venera, Callipigia e Pussin viaggiano il suo immaginario In un dialogo tra genere differenti Si svela il vitalismo del sulmonese Ecco, questi sono gli eventi più interessanti Dal punto di vista culturale che questa settimana Ci sentiamo di consigliarvi Adesso passiamo alla seconda parte del nostro programma Che è proprio la teoria del vago C'è un'analisi dei fatti d'attualità, dei fatti di cronaca Con piglio, critico E parlando in diretta, simultanea Con dei personaggi che hanno dato anche vita a questi problemi Che hanno subito questi problemi Che ne hanno parlato come Diego Oliveri Che è qui in studio in nostra compagnia oggi Diego, quella notte del 22 ottobre alle 3.30 Qualcosa è cambiato nella tua vita in modo irrimediabile Come? Cos'è successo? Perché? Il blitz è scattato non solo per me Ma per 19 imprenditori in tutta Italia Siamo stati arrestati con delle accuse Pesantissime, molto ben lontane dal mio stile di vita Che avevo condotto fino a quel giorno Sono stato accusato di 416 bis Che sarebbe associazione mafiosa esterna Sono stato accusato di aver riciclato 600 milioni di dollari 774 miliardi di lire al tempo Sono stato accusato di traffico di droga internazionale E ciliegina sulla torta Prima accusa dopo il 2005 Da quando è stata inserita nel codice penale Inside the trading Inside the trading praticamente per i non addetti lavori Vuol dire che manipolavo la manovalanza mafiosa E i mercati internazionali di borsa Titoli, oro e pellami Cioè tutte queste cose Sono venuto a saperle, a conoscerle Dal momento che mi hanno trasferito in carcere Dalla televisione Poiché hanno dato ampio spazio A questo intrigo internazionale In cui erano caduti E' proprio il caso di dirlo Caduti questi 19 imprenditori Ma questo non basta Eravamo solo all'inizio Del calvario giudiziario Ecco, siccome il caso di Stefano Cucchi È un caso molto caldo Che ha visto sulle cronache di tutti i quotidiani La confessione di uno dei cinque implicati Dire sì, effettivamente Cucchi Prima iniziò a perdere l'equilibrio Per il calcio di D'Alessandro Poi la violenta spinta di Di Bernardo E la botta alla testa Quindi è crollato, se così possiamo dire, il muro Quando lei si è interfacciato con i carabinieri E poi con la polizia penitenziaria Ha effettivamente notato questo muro? Ha notato una certa, diciamo, accredine o no? Guardi, io sono abituato Cosa dice riguardo a questo? Io sono sempre stato abituato ad essere franco E nei vari convegni che ho fatto Ormai in mezzo a Italia Ho sempre ringraziato la magistratura che mi ha assolto Perché ha Cesare quel che è di Cesare E l'arma dei carabinieri Perciò ho seguito il caso di Cucchi fin dall'inizio E mi è dispiaciuto moltissimo Per quello che ha subito questo povero ragazzo In ogni famiglia diciamo che non tutti i figli sono uguali Prendiamola così Ma non sono in grado di poter capire Cosa può essere successo In quella caserma in quel momento So che la magistratura sta indagando È stato aperto un processo Perciò spero che al più presto Chi e come hanno combinato questo spiacevole Perché lo considero veramente un incidente di percorso Vengano puniti Ma per quanto riguarda l'arma Io posso solo dire che sono sempre stato aiutato Quindi lei ha avuto un'esperienza Diciamo positiva Con l'arma dei carabinieri Molto positiva Non ha ricordi negativi Anche della detenzione carceraria No Io sono sempre stato rispettato Però io ho sempre rispettato Attenzione Ecco questa è un'altra prospettiva Io ho sempre rispettato E sono sempre stato rispettato Sia dalle guardie carcerarie Che dall'arma Sempre E questo purtroppo non posso negarlo Lei, signor Olivieri È stato in un carcere di massima sicurezza Per un anno A Re Bibbia Ingiustamente detenuto Tra l'altro è stato con personaggi Di tenore criminale Di un certo tipo Se non sbaglio È stato con un pluriumicida In stanza Chiamiamolo criminali veri Con dei veri criminali Cosa Cosa si prova? Allora Per quello che riguarda La detenzione E la mancanza di libertà È una situazione Che non si riesce nemmeno A descriverla L'ho scritta L'ho scritta qui nel mio libro La mancanza di libertà Che fin Che non se ne conosce L'importanza Non se ne conosce Neanche effettivamente Quello che può essere La libertà Di agire E di fare In 4 metri Per 2 metri e 70 Chiusi in un blindato Per 22 ore al giorno Voi potete capire La mente Da innocente Perché non è È diverso Essere detenuto Da innocente O da colpevole Perché il colpevole Bene o male Se ne fa una ragione L'innocente no Perché si chiede Perché è lì E la mente Di notte Soprattutto Continua a sviluppare A creare Quelle situazioni Che poi Psicologicamente Ti puniscono Perché perdi La voglia di vivere Molti suicidi In carcere Sono fatti E pochi lo dicono Perché? Perché la gente Ha perso la dignità E l'onore Che secondo me Sono le prime cose Che servono All'essere umano Poi Poi Dove ti trovi Pensi anche Di perdere L'impresa Io ho avuto La fortuna Di ereditare Da mio nonno Nel 1946 Ha fondato La Olivieri Pellami Che poi Ha portato avanti Mio padre Poi Stavo portando avanti Io E adesso Grazie a dir Lo porto avanti Mio figlio Con grande valore Io ho dovuto Dalle dimissioni Della mia attività Ho dovuto Staccarmi Completamente E quando Leggevo i giornali Che davano Ampio spazio A questo Intrigo E vorrei Anche che Qualcuno Vedesse Questa è una pagina Del Corriere della Sera Ne ho preso Uno a caso Ma io sono stato Impallinato Da tutti i quotidiani Tutti i settimanali Panorama Espresso Tutti ne hanno parlato Perché Giustamente Come è scritto qui Parlo dei titoli Più grandi Società fantasma Offshore 600 milioni Di dollari Sventato da DIA Mega reciclaggio Messo in piedi In piedi Da un clan Italo-Canadese Il Veneto Snodo cruciale Ecco qui Affrontiamo un altro tema Che Spesso e volentieri È legato Alla carcerazione La prigionia Il crimine Che è appunto L'informazione I giornalisti La stampa Cioè Anche come nel caso Cucchi È stato fatto un gran casino La gente parlava I giornalisti dicevano una cosa Chi un'altra Chi diceva Cucchi in realtà Si è rifiutato Di collaborare Chi invece diceva Cucchi ha collaborato Ma è stato vittima Di un sistema malato Di un sistema corrotto Deviato Secondo lei La sua esperienza Con la stampa Qual è stata? Quando è successo Il fatto E oggi Invece Che è stato assolto Con formula piena Quanto di peggio Mi poteva succedere Lo hanno messo Sul piano I giornalisti Perché forse Dimenticano Che dal momento Che esce Questo messaggio Perché chi legge Dice Se hanno fatto La piantina La potrei La potrei anche Querelare Sei impossibilitato Sei impossibilitato E l'impresa La perdi Ma attenzione La puoi perdere Anche dopo Dieci anni Di processi Perché I processi Sono troppo lunghi Perché tu Perché tu possa Leggere il peso Di tutte Le traversie Che ti portano A salvare La tua attività Perciò L'imprenditore È il primo Che secondo me Subisce Queste realtà Certo L'imprenditore Lei prima citava 19 imprese Di cui 9 sono andate In fallimento Sono fallite Inesorabilmente Perché hanno avuto Una lesione Della loro immagine Ma per quanto riguarda Sempre il tema Con cui abbiamo iniziato Che è il tema Che interessa L'attualità Di questa settimana I rapporti Con la giustizia Cioè Il privato cittadino Lei è entrato In questa vicenda Da privato cittadino Ne è uscito Da personaggio pubblico Che ha scritto un libro Prima era Un imprenditore Di una provincia Del Veneto Conduceva tranquillamente La sua vita Improvvisamente Un personaggio pubblico Così come Cucchi Che era un ragazzo Qualunque Trent'anni Adesso è diventato Un caso nazionale Ma secondo lei Perché in Italia Le cose Prima di risolversi Da sole Devono sempre Molto spesso Diventare Dei casi nazionali Cioè Cos'è che non funziona Secondo lei Secondo il mio punto di vista Secondo il mio punto di vista Ecco perché io faccio Questi convegni Lo faccio per un senso civico Nel sperare che le cose cambino Ma anche Come vengono svolti i processi Lei deve Gli ascoltatori Devono sapere Che ancora Ancora si scrive Cioè non c'è più Un sistema telematico Non c'è ancora Un sistema telematico Via computer Che Arrivano in udienza Con carrelli Di faldoni Che pesano Quintali Ma io dico Ma siamo ancora All'età della pietra Cioè andrebbe tutto Riformato il sistema Non è possibile Che un processo E nel mio E nel mio Si sono fermati Al primo grado Poiché le prove Non sono mai riuscite A portarle In aula Cioè dimostrarle Perciò Si sono fermati Al primo grado Ma nonostante questo La sua vicenda processuale Si è fermata Al primo grado Però Lei Non ha avuto Un risarcimento D'anni Cioè Un altro lato Non io Nella vicenda è questo Nessuno Nessuno Dei 19 imprenditori Che sono stati coinvolti È stato risarcito Nemmeno il più piccolo Che è stato Un direttore di banca Che ha chiesto 30.000 euro Però Non gliel'hanno concessi Perché Siccome eravamo legati Tutti Allo stesso filo Se pagavano uno Dovevano pagare tutti Certo E siccome Sempre detto Dei nostri avvocati La somma Del totale Di 19 Era Superiore Alla somma Di una finanziaria Purtroppo Lo Stato Non può pagare Perché Il risarcimento Era troppo alto Ma i danni Li hanno fatti Però Gli anni Ed è questa La cosa sbagliata Perché io dico È vero L'errore ci sta Però Sono state talmente Banali Gli errori che hanno fatto Nel mio caso In caso di altri Che bastava No Una polizia giudiziaria Bastava Un Forse Una più Oculatezza Nelle indagini Invece oggi Le indagini Vengono svolte Solo Solo A livello Intercettazioni E basta Una volta Una volta Se si parlava Di droga Bisognava avere Campioni di droga Sulla scrivania Per dire La droga Oggi la droga Ha parlato Di traffico Internazionale E io la droga Non l'ho mai vista In vita mia Alla fine È chiaro Che tutto Un toarema Con i piedi D'argilla Così non sta in piedi Ecco Abbiamo parlato Della sua vicenda processuale Legandola Al caso Cucchi In modo Diciamo Tale da creare Dei parallelismi Se possibile Lei ha detto Che non ha avuto Un cattivo rapporto Con le forze dell'ordine Anzi Positivo Però durante Il suo periodo Di detenzione carceraria C'è stato qualcosa Che l'ha turbata Lei ha scritto un libro In un anno A Re Bibbia Cos'è che più L'ha fatta stare male A livello emotivo Mi ha fatto stare Molto male Molto male Il sistema Il sistema Perché Io dico Prima o poi Si accorgeranno Prima o poi Invece Cosa succedeva Io ho voluto parlare Subito col PM Le torture psichiche Che se mi dà La possibilità Le racconto solo qualcuna E quello vogliamo sapere Vogliamo sapere Cosa succede Cosa vive Un detenuto in Italia Oggi Bene allora Nel frattempo Dopo il mio arresto Io che ho voluto Parlare per forza Con il mio PM Per chiarire la mia posizione Ma non l'avessi mai fatto Vi racconto Solamente Di piccoli particolari Bene A Re Bibbia Sabato mattina Ore 10.30 Appuntamento con il PM I miei amici di Sventura Mi hanno detto Guarda Che non risolverai nulla Anzi Peggiorerei la situazione Non andare a parlare col PM Ma io Dentro di me Pensavo Io sono diverso Perciò Io non ho nulla da nascondere Vado a chiarire Questa situazione intricata Che non ne conoscevo Né capo Né coda Prima di andare Lì Su quel furgone Cellulare Che vedete Spesso girare Con scritto polizia penitenziaria Che augurerei Di fare un giro Chi l'ha progettati Quegli spazi angusti Per i detenuti Trasportati Che non si vede nulla Perciò Il malore Terribile Terribile Non si vede nulla La claustrofobia A 10 cm Cioè Non si vede In gabbia Più di una gabbia Comunque Arrivo Apro il cellulare Scendo Dove mi trovo Al centro di Roma Non nel piazzale Il tribunale Al centro di Roma Con sei agenti armati Due davanti Armati di Mitra Mi hanno ammanettato Come un criminale Io alle mie parole Dico Ma scusate Dove siamo? Non siamo qua Al centro Al tribunale Olivieri Non faccia storie Per non posizionare La sua situazione Mi hanno spinto Sul marciapiede E il drappello Si è incamminato Lungo questo marciapiede Ammanettato Con due agenti davanti Armati Due mi cingivano Le braccia E due indietro E due dietro di me La gente fuggiva Per non incontrare Il drappello Attraversava la strada Di corsa Si schiacciava Contro il muro Ho provato Ho provato Ho provato Una situazione Che non riesco neanche A descrivere Cercavo un tombino Aperto Per buttarmi ci dentro Umiliazione Un'umiliazione Così Pensavo Non potesse esistere E l'hanno fatto Perché? Per provare La mia psiche Bene E siamo solo All'inizio Quindi lei ha subito Delle turbe psichiche Una forma di violenza Più di una Psicologica Non tanto fisica Quindi ancora più difficile Da provare Per estorsermi Una confessione Che io non potevo fare Perché Giustamente Non potevo firmare qualcosa Di cui non ero a conoscenza E soprattutto Non avevo commesso E quanto è durato Questo periodo di Diciamo Sottomissione psicologica All'autorità Per tutto il periodo Della mia detenzione Io C'è la possibilità In carcere Di andare in biblioteca Di andare in palestra E allora però Bisogna scrivere Magistrato Scrivere al magistrato Per avere questa possibilità A me non mi è mai stato Non ho mai avuto risposta Perciò Ma le dirò di più Alla fine Delle indagini preliminari 12 mesi Fine indagini preliminari Cosa succede? Mi arriva Dalla matricola Ero ancora in carcere L'avviso Fine indagini preliminari Cosa hanno fatto In questi signori? Non mi hanno più dato La 416b Sconcorso esterno Mi hanno messo All'interno Della situazione mafiosa Poiché Poiché ero omertoso Perché non ho Collaborato Collaborato Perché non mi sono messo A disposizione Ma concretamente Un altro esempio Di questa sottomissione psicologica All'autorità Di questi trucchi Diciamo Psichici Che venivano fatti C'è un tipo di violenza fisica Che la possiamo vedere Nel caso Cucchi E lì C'è da accertare appunto La responsabilità E invece la violenza psicologica Oltre a questa umiliazione In cos'altro Si concretizzava Ero ora Bibbia E arriva l'agente Di scorta L'agente di custodia E mi dice Olivieri liberante Olivieri liberante Vuol dire che sei libero Vado in matricola A prendersi i soldi Non mi pareva vero Era Fulmine A cesareno Comunque vado in matricola E mi danno Quel poco Che la famiglia manda Affinché tu possa Comprare il sopravvitto Perché Se hai le possibilità Di comprarti qualcosa Non muori di fame Ma il cibo del carcere È veramente Una cosa Da non cominciare Neanche a dire A sto punto Mi dice la gente Che mi consegna La gente della matricola Guardi E deve andare a destra Che c'è un magistrato Quello che vuole parlare Deve chiarire le cose Bene Dico Mi daranno I domiciliari Non dovrò poter Usare il telefono Quelle cose Che Purché esca da questo inferno Mi va bene tutto Apro E vedo La gente Da me Soprannominato Il mastino Sul libro Che mi sorride E mi dice Adie Non vai a casa In dialetto romanesco Proprio Ah quindi Ti hanno preso in giro Mi hanno rimesso Un arresto Senza il mio avvocato Senza il jeep Loro Mi hanno rimesso Un arresto Ma quale? Ci vuole un nuovo arresto Per essere arrestato Un'altra volta Invece hanno fotocopiato Attenzione Hanno fotocopiato E agli atti questo Il faldone Di 164 pagine Che mi hanno arrestato E mi hanno riarrestato Con quello Poi sono andato a parlare Con il jeep Dopo una settimana E Con l'avvocato Dopo 4 ore Dicendo sempre Io ho fatto una domanda Il jeep Dico scusi Vado un po' veloce Perché so che il tempo È tiranno Scusi dottore Posso fare una domanda Mi dica Vorrei sapere il perché Sono trattenuto In custodia cautelare Voglio sapere il reato Per il quale mi trattenete Alza gli occhi Mi fa Non si preoccupi Vedrà che prima o poi Verrà fuori Cioè Io lì Sono caduto Nella disperazione Dico questi Non sanno neanche Perché mi trattengono E sono ancora in custodia Cautelare Il perché Uno scenario kafkiano Diciamo Ma una cosa Il processo di Kafka Ecco perché io ringrazio I giudici Che si sono letti Le carte Che mi hanno assolto Ecco Diciamo che esistono E' un altro tipo Di magistratura Voglio dire Qui non siamo Soltanto degli accusatori Diego Oliveri Si dimostra anche Piuttosto equilibrato Nel giudicare il sistema Della giustizia in Italia Perché d'altro canto C'è stato invece Un magistrato Che leggendo bene le carte Ad oggi L'ha resa libera Grazie a lui Sì Quindi Ci sono due tipi di giustizia Le ho anche scritto Non c'era solo una La giustizia sbagliata C'è anche una giustizia giusta Che è quella Che l'ha permesso Di avere una sorta Di rivincita In questa Terribile tragedia Ma un altro piccolo Perché non posso spiegarlo Perché Quando hanno iniziato Il processo Che subito Si è visto Fin dalle prime odienze Che non stava in piedi Cosa hanno pensato bene Gli inquirenti accusatori Di avvalersi E staccare Una misura di prevenzione Che è Quanto di peggio Può succedere All'impresa Poi che vengono Controllati Minima Dalla polizia di stato Polizia tributaria Banca d'Italia Dalla DIA I conti correnti E me li hanno chiesti Per 13 anni Entrate e uscite E hanno coinvolto I miei figli Oltre che all'impresa I beni dei miei figli Perché se per caso C'è qualcosa Che non funziona Tutti lo sanno Sequestrano il patrimonio Sì Gli hanno anche dato Un commissario La sua azienda Ha avuto un commissario È stato messo subito Al momento dell'arresto Bravissima persona Che saluto Ancora adesso Ci facciamo gli auguri Di Natale E ringrazio Dio E questa testimonianza Della sua imparzialità Nel giudicare Anche le persone implicate Nella sua situazione Per fortuna L'ho conosciuto Anche durante questo percorso E persone preparate Preparate E in grado Di svolgere il loro lavoro Con molta serenità E molta aculatezza Perciò Questo è importante Perciò La misura di prevenzione Che adesso sta decimando Ditte A non finire Nel Meridione Purtroppo È Una Mannaglia È una managlia Che difficilmente Un'impresa ne esce Io E di questo me ne vanto Ne sono uscito Pulito Però Hanno avuto il coraggio Di farmelo Perché loro Cercavano Per forza Un colpevole Avendo staccato Un largatorio internazionale Con Svizzera Stati Uniti Canada Mi sembra Anche Francia Non potevano Non potevano aver sbagliato Invece purtroppo Hanno sbagliato Io sono qua Che lo racconto Signor Oliveri Siamo ormai In fase di chiusura Le faccio una domanda Ho fondato Ho fondato una onlus Perché pensavo Che con il risarcimento Poter fondare Un ospedale In Africa E invece Il risarcimento Non c'è stato Ma L'ospedale Non siamo riusciti A farlo Però stiamo aiutando Con la mia onlus Futuro per tutti .it Molte persone in Africa Perché Io sono abituato A Abituato Mi viene da dirla Con una sola frase Datosi che mi sono appoggiato Aiutando le persone più deboli Che dopo di noi Resterà solo L'amore Che abbiamo lasciato Grazie Diego Per questo insegnamento Grazie ancora una volta Per averci spiegato Quella che è una vicenda Prima ancora che umana Una vicenda di interesse sociale Perché sono cose Che non devono succedere Grazie anche per la moderazione L'equilibrio Con cui Ha valutato I fatti Dando a Cesare Quel che è Cesare Riconoscendo anche Una magistratura giusta Non soltanto Una magistratura Sbagliata Noi vi rinnoviamo L'invito Su Caffè TV 24 Extra Sabato prossimo Alla stessa ora Sbagliata